Grazie a tutti. Sì, ma domani, domani mattina è che ora fai collezione? Alle 7.45. No, devi partire alle 7.30. 6.30. Alle 6. È un quarto. No, scusa, 7.30 si parte. Che cosa è una 6.40? Ce l'ho scritto. C'è il diario dei 7.45. Mary, noi te la partiamo? Prima sprint day ai J-Walk di sempre. Carichissime. Emozioni? Tante. Sono gasata. Perché la squadra è una bella squadra. I ragazzi sono pronti. Non eravamo pronti a sprint day, ma sono pronti. Lancerà Anna Rita. Seguirà Ilian. Poi ci sarà Davide e chiuderà Martina. I ragazzi sono pronti a fare il meglio che possono con l'idea di raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati. Che è un bel obiettivo. Goal è? È nascosto. È nascosto. Tutti noi lo sappiamo. Ve lo sveglieremo domani. Goal! And we have the start of the first ever sprint relay on the Junior World Orienteering Championship. 1.22 behind in position number 15. Sweden won 1.27 behind. So now Noel Brown will really need to speed up and get some time on the lead. 2 secondi behind. This is 52 secondi behind. And also water race for Ilian Anjali. He's changing over in position number 8. He was 1.20 behind. He got... Bravo, Kania! Allora, gli abbiamo battuto gli inglesi e i francesi. Allora, non ci interessa che cosa abbiamo battuto. Sì, che ci interessa? A me quello piace, diciamo. Ma abbiamo battuto i francesi di squadra, due? Tutti e due. Vaga! Allora... Vabbè dai, ci teniamo... E adesso abbiamo quanti... qualche mese... Ci teniamo un po' di... Per le prossime gare. Rivincita. Ok. Per le prossime. Ci vediamo domani, va? Non siamo soddisfatti. È troppo che occorre il Mandellino e la Giulia. No, ci vediamo niente. No, ci vediamo niente. Non sei dorme? Andiamo in bosco. Andiamo in bosco. Con l'idrante nole. Con le bottiglie al tavanzato. C'è uno sicuro di nuovo. Per esservi, invece, è un puzzle da ricostruire. Su! Quindi non è... Non facciamo questo. Secondo me è... Ah, questo è un cerchio, raga! Ma dai! Non è quello il posto, però. Ma come le fai a dirlo? Che corpi che fiamo? Questo va qua. No, ricordo. Ma cosa fai? No, non è questo qua. E questo va? Oh! È lui! Io sarei passato di qua con un spingaro. Ah, che bastardo! No, io devo disegnare l'umore in pratica. Non so! Due, uno... Dov'è il grasso? Aiuto! Dalla... Dalla... Dalla i rossa a off. Ma chissà se è di qua? Non lo so. Non sono in chiesa di qua. Ma si può poi cancellare, Orlando? Ah, ho perso il segno. Ah, bene! Ah, bene! Ah, bene! Forza Svizzera! Dai fiazzi! Chi è? Allora? Ah, il lampazzone! Soprappeso nel polpone. Mezzo piatto di pasta. No, 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 no. Quella tenista l'ho messa in... E quindi vanno più a me. Ah, forza! No, prima quella... Questa tenista con questa. Cioè, prima questa era qua? No, sì. No, era il contrario. Ma che tene... Dopo il polpone. Che brana, che mi disegna. No, più in cui eravamo diversi. Bravissima. No, Giulia. La Giulia che l'ha già trovata vuol dire che era in questi. La Giulia è forte su questo, eh. La Giulia è straforte su questo. Ah, state attenti alla Giulia. Vabbè, io non so. Oh, questo no, questo non mi viene. Io non ne trovo mezzo. Questo facciamo. Erano solamente tre chili di più sopra il vino peso. Peso forma. Peso forma, sì. Non me ne aspettavo. Faccio l'orecchio più grande. No, perché mi filmi? Non mi metto di sì. No, no, no. La Rita. La mia sembra morta. Ma poi ce la faccio un po' Siamo noi? Sguardo dal basso all'alto è difficile da ripetare. Ti sta impegnando Lilian, è davvero bravo. Poi dovete fare la spalla. Poi dovete fare la spalla.